Il planetario invece, devo dire che è ancora una giornata interlocutoria, una giornata di passaggio. Perché dico di passaggio? Perché stanno avvenendo dei cambiamenti a livello planetario che poi vi favoriranno. Ma ancora in questa giornata vi troverete ad affrontare dei problemi, problemi anche dell'ultimo momento, problemi relativi anche a delle scelte che avete fatto che non sono state proprio azzeccate, perché questa congiunzione di Marte e di Saturno rendendovi troppo rigidi nelle vostre posizioni tante volte vi fa perdere delle occasioni o vi fa prendere delle decisioni che voi ritenete irremovibili ma che nascondono una certa fragilità perché fondamentalmente possono rivelarsi delle scelte sbagliate.